Per ora può andare bene così, vincerlo soffrendo questo debutto su un canestro di scioccante bellezza nel finale, firmato da Kevin Panther, esordio da fuoriclasse vero, 29 punti, sbagliando un solo tiro libero, 4 su 4 da 2, 5 su 5 da 3, 37 di valutazione, la tripla impiccata del decisivo più 4 e perfino il furto precedente in difesa. Il resto è una Virtus con tanta strada da fare, abbagliante per due quarti, ma senza accecare gli avversari fino in fondo, una Trieste dimezzata dagli infortuni di Wright, da Ross e Peric, più quello di Janelizze in avvio di partita. Il dominio bianconero dura solo due quarti, in cui la banda di sacripanti mostra tantissimo repertorio, passando un po' da tutti, a partire da Mbaillet e dallo stesso Panther. Il terzo quarto è quello del blackout, i triestini, che raccolgono 11 rimbalzi in più e ben 13 offensivi, ribaltano tutto fino ad arrivare a più 4, segnando 26 punti. La Virtus finisce in confusione, perde le distanze, ma, e questa è la cosa più importante, sa reagire. Taylor, andato a corrente alternatissima, lucra tanto in lunetta nel momento più delicato. Aradori, tenero in difesa, ma lucidissimo in attacco, si unisce a Panther. Dalmason perde altri tre giocatori per falli. Sacripanti la vince col quintetto piccolo, presentando Martin da 4 e con la classe di Kevin Panther Junior. Mercoledì sarà già Coppa, solo l'inizio di una lunga strada, per ora contava partire bene e festeggiare di nuovo sul campo della promozione, il resto verrà.